Si apre una stagione di riforme per la sanità toscana già avviate o in fase di lancio. La nuova architettura dell'assistenza territoriale con le case di comunità al centro, la semplificazione dell'accesso alle cure non urgenti, la digitalizzazione delle prenotazioni online che hanno avuto grande slancio durante la pandemia e che ora dovranno essere messi a sistema, fino al potenziamento delle cure domiciliari e alla riorganizzazione dei pronto soccorso e delle guardie mediche per garantire la continuità assistenziale a favore delle aree più periferiche. È il momento di pensare al futuro post pandemia dunque per la sanità toscana che punta ad essere più digitale e più vicina alle persone cercando di trarre il meglio dall'esperienza di questi anni. Io quando parlo di riforme parlo di atti non promessi ma fatti perché nell'ultima settimana noi abbiamo portato con delivere di giunta elaborate insieme all'assessore Benzini, insieme al direttore generale Gelli, una serie di indicazioni di prospettiva per quello che riguarda abbiamo approvato. Una riforma della continuità assistenziale, le guardie mediche che sicuramente libererà energie di medici per quello che poi è il rapporto con il territorio. Una riforma su quello che è l'emergenza urgenza attesa da anni e che si concretizza attraverso gli atti deliberativi che abbiamo approvato. Il 116 che si unisce con il 117. La possibilità di un sistema territoriale che incomincia a vedere realizzate alcune strutture. Ne cito una, simbolo, ma quando a Certaldo 15 giorni fa abbiamo inaugurato quello che è una casa di comunità che osserva tutti i parametri che la nuova legge chiede per gli interventi di PNNR. Ecco, dovete pensare che come quella noi ne vedremo da qui al 2026-70. Il filo conduttore per questa fase di riforme è a zerare le differenze tra territorio e territorio, creando una rete più capillare, valorizzando i piccoli ospedali, anche grazie agli enti di volontariato per garantire una salindà pubblica di eccellenza in tutta la regione. Con l'anno che verrà assisteremo anche alla nascita del Dipartimento Interaziendale del Farmaco, che avrà tra i propri obiettivi l'ottimizzazione dell'erogazione dei farmaci a pazienti cronici o curati a domicilio e il coordinamento regionale sull'efficientamento energetico per provare a mitigare nel tempo il caro bollette. Stefano Grifoni, responsabile del pronto soccorso di Careggi, invece è stato nominato coordinatore del Governo Clinico, organismo di consulenza dell'amministrazione regionale, che avrà funzione di coordinamento tra le strutture tecniche e politiche regionali e gli operatori sul territorio e negli ospedali. Questi sono i grandi filoni di riforma a cui si aggiunge uno degli atti più importanti di questa legislatura, e cioè l'approvazione delle linee guida per i nuovi modelli di assistenza territoriale a seguito del cosiddetto DM77, che dà le coordinate per mettere in attuazione i nuovi modelli organizzativi per l'assistenza territoriale che dovranno marciare in parallelo con gli investimenti previsti dal PNRR. Da ora fino al 2026, quindi in un triennio, dovranno andare a regime.